Gabriele Moreno Locatelli era venuto qua per promuovere la pace, per promuovere la solidarietà, l'amore e la vita. Purtroppo è stato ucciso in una maniera da codarvi, non si capisce ancora, da dove esattamente? I smatra od svilu nas građanskom obaveza, u nas, u Bosni e Mercegovini, da se nastavimo vorrethi za istinu i za pravi. Sono del parere che tutti noi in Borse Erzegovina dobbiamo continuare a combattere per la verità e per la giustizia. Questo luminoso esempio offerto da Moreno sicuramente può ancora costituire una stella polare, una fonte di ispirazione per chi in Borse Erzegovina ancora si impegna sul campo per promuovere i processi di riconciliazione. Moreno in sé ha portato una vita sul ponte e lì l'ha conclusa nel modo che a lui lo caratterizzava. Vedo in lui una continuità, credo anche che questa cosa ha portato tante iniziative dopo, tanta vitalità nel suo comune, nei suoi amici, nelle sue persone e anche a Sarajevo. Quindi sono semi che si mettono e che poi germogliano e crescono. Noi magari non vediamo tutto, non possiamo vedere tutto, ma sicuramente piano piano vedremo anche i frutti di quello che apparentemente ci sembra morto, finito.